Che bello rivedere una piazza così piena di persone, piena di contenuti, piena di lotta. Ricordiamocelo sempre, i diritti non sono concessioni, i diritti sono conquiste e poi vanno difesi. La storia non la scrive chi governa, ma la storia la scrivono i popoli. Da Napoli bisogna dire con forza al Parlamento, il Parlamento deve avere coraggio, non deve fare calcoli. Chi fa calcoli sui diritti non ha coraggio. Io sono orgoglioso delle lotte di questi anni per i diritti e quindi vi ringrazio perché ho incontrato tante donne, tanti uomini, tante persone, tante trans, tante belle facce che ci hanno messo la faccia affinché noi potessimo avere le conquiste di questi anni. Il registro delle unioni civili, i matrimoni dello stesso sesso. Mi sono preso una denuncia per dare la carta di identità a Ruben. Ve lo ricordate Ruben? Viva Ruben! Mi hanno denunciato, ma non me ne è fottuto niente perché non bisogna fare calcoli quando si lotta. Chi non lotta è un perdente, chi lotta è un vincente. E noi abbiamo sempre lottato, ci siamo sempre stati, sempre. Allora io non voglio dire altro perché la giornata è vostra, state dette tante cose, però credo che questa città ha un grande segreto che ci deve guidare anche per il futuro. La grande umanità, il grande cuore, la grande fratellanza e la grande sede di giustizia. Io vorrei ringraziare il sindaco, sono stati dieci anni favolosi, dieci anni di visibilità per la comunità transessuale, dieci anni di diritti in questa nato, dieci anni di antifascismo. Tu sei stato a cuore e sarai sempre a cuore! Grazie a tutti!